Siete attivi anche per il Comitato per il No al Referendum che vede uno schieramento trasversale da destra a sinistra di chi non ha votato e chi si oppone alle riforme costituzionali volute dal governo e dalla maggioranza. Noi nel corso del tempo, nel processo di approvazione di questa riforma costituzionale abbiamo visto quali sono i rischi di questo testo che si riassumono in uno solo, il tentativo da parte di Renzi di mettere il potere tutte nelle mani di un solo uomo. Certo Renzi dirà che con questa riforma costituzionale si tagliano i costi, si semplifica il processo normativo istituzionale che ha tagliato il Senato, cosa non vera perché il Senato rimane solo che non è più eletto dai cittadini italiani. Noi cercheremo in questi mesi di accendere una luce sulle minacce al buon funzionamento della democrazia che questa riforma porta con sé.